e buonasera da Firenze io sono Valtor Fecal De Totoni project manager in Yamaha per la divisione commercial audio adesso siamo alla quarta edizione di Riding Passion insieme con connessioni i prodotti che abbiamo dimostrato e annunciato oggi perché ovviamente ci sono tante novità sono gli amplificatori di installazioni quelli mezzo live i nuovi quattro canali tutte le matrici della serie MTX e MRX tutti i divisori della serie VXS VXC quelli a soffitto le nuove colonine VXL con anche vari ascolti era molto interessante abbiamo avuto un riscontro molto positivo su tutte le linee ovviamente anche il nuovo prodotto che è live ma viene usato anche molto in per i corporate che è lo stage pass 1k che è una colonna con un subwoofer in un corpo abbiamo dimostrato i nuovi prodotti UC sia della Rivo Labs che Yamaha audio conference e video conferenza abbiamo fatto una piccola dimostrazione della all in one solution CS700 con l'inquadratura variabile eccetera presentati nuovi prodotti come l'Enterprise Soundbar 1080 che sta per uscire uno scopso Hudley camera che forniremo insieme con l'ASB 1080 e abbiamo presentato la nuova serie microfoni Elite che hanno anche una criptografia da 256 bit che cambia ogni 5 minuti la chiave quindi i microfoni wireless più sicuri del mondo e poi finiamo con un test ride ovviamente con le moto quindi la passione della musica insieme con la passione per le moto tutto in un evento è stato veramente bellissima grazie a tutti